Allora, Ferone, lei nel corso del suo esame ieri ha parlato anche di Raimondo Natale. Sì. Se puoi indicare alla Corte quando ha conosciuto il di Raimondo Natale e se l'ha conosciuto personalmente. Sì, ho conosciuto personalmente il di Raimondo Natale. In che periodo? Sin dal circa sentivo parlare di il di Raimondo Natale, sin da primi anni Ottanta. Ne sentiva parlare in che senso? In quanto era inserito nell'organogramma di Benedetto Santa Paola, un affiliato di Benedetto Santa Paola, uno vicino a Benedetto Santa Paola, uno della squadra, insomma. Fin quando poi man mano... Sin da quando c'era la contrapposizione con Ferlito? Sì. E poi ha avuto modo di conoscerlo personalmente? Sì. In che anno, se lo ricorda? Nell'88. Un po' più forte, credo. Nell'88-89, più o meno, in quel periodo là. Ricorda l'occasione in cui l'ha conosciuto? No. Io in questo momento non ricordo il motivo perché ci siamo incontrati, sì, però l'ho conosciuto in quel periodo là. Lei ieri ha dato qualche indicazione, se la puoi ribadire, circa il ruolo di Raimondo Natale nell'organizzazione del Santa Paola, se lo conosce. Sì, di Raimondo Natale era un responsabile della squadra di Santa Paola. E sa in che zona operasse? Di Montepo, la zona di Montepo. Oltre l'episodio in cui l'ha conosciuto e per il quale non ricorda le ragioni dell'incontro, ha memoria di altri incontri con il di Raimondo Natale? Sì, gli incontri sono stati più di uno. Non ho te ricordo che è avvenuto anche nel mio negozio, in via Francesco Crispe, più o meno. E la ragione? Ma il motivo particolare non lo sto ricordando in questo momento. Ma gli incontri avevano attinenza a affari leciti o a fare, diciamo, delle organizzazioni, quindi affari leciti? No, a volte magari ci si incontrava così, tanto per scambiarci un saluto. A volte magari se c'era un motivo specifico si parlava di quello che c'era, diciamo, da parlare. A volte lecita, a volte illecita. Ma che però, diciamo, me e lui, affari leciti non ne abbiamo trattati mai. Lei sa se il di Raimondo Natale si sia reso responsabile di fatti illeciti particolari? Se ne ha conoscenza. Conoscenza diretta, no. E come conoscenza indiretta sa qualcosa? Indiretta, in quanto essendo che lui era, diciamo, come si usa dire in cergo, capo decima, era uno di quelli in cui se c'era qualcosa lui la doveva sapere. Per cui deduco che il di Raimondo Natale, su ciò che c'era da fare, per conto della squadra di Santa Paola, ne fosse a conoscenza. Soprattutto se, non so, per qualsiasi cosa muoversi erano persone di cui lui era a comando, per noi era noto che le direttive partivano da lui, anche se poi lui le riceveva dai suoi superiori. Senta, lei sa, l'ha parlato come di un capogruppo, lei sa chi erano le persone più vicine al Natale di Raimondo? Se ha avuto modo di conoscerne qualcuno? No, sentivo parlare di Franco Spascio, vicino a Di Raimondo. Gli altri? Appartenente al suo gruppo di fuoco, in pratica. Giovanni Rapisarda, però anche vicino a Angelo Cadina, Angelo Mascali, in quanto eravamo a carcere di Carinola con Giovanni Rapisarda, al carcere di Carinola, nell'85. Dove è questo carcere? Provincia, mi pare, di Caserta, se non va derato. Siamo stati trasferiti dal carcere di Bicocca, di Catania, al carcere di Carinola. Io, Giovanni Rapisarda, un altro ragazzo, che si chiamasse Stefano, e che poi mi disse di... però con Giovanni si parlava di più e di meno niente di particolare, durante la giornata che eravamo lì a Carinola. Solo che poi io sono sceso a Catania, in quanto ero imputato in un procedimento in corso, e Giovanni mi ha detto di farle una cortesia, di portare un messaggio a Natale di Raimondo e a Angelo Catina, di cui gli dissi che io più conoscevo Natale di Raimondo, avrei parlato con Natale di Raimondo. In effetto ho incontrato Natale di Raimondo a carcere qui di Bicocca, durante, mi pare, se non ricordo male, un colloquio, e le portai, diciamo, questa ambasciata, ma niente di particolare, si trattava semplicemente di un... direi a Natale di Raimondo che per Giovanni, sarebbe Giovanni Rapissarda, quello che faceva lui, per lui stava bene. Praticamente su questa cosa che avevano per le mani, tutto ciò che faceva Natale di Raimondo o Angelo Catina, per lui stava bene. e di cui non so nemmeno di chi si trattasse. Senta, lei ha mai conosciuto un certo di Re Giuseppe? Come? Di Re Giuseppe. No. Un certo divenuto Francesco? No. Una persona soprannominata Franco Ghiacciaro l'ha conosciuta? Lei ha parlato in più occasioni di Aldo Ercolano. Sì. Oltre gli episodi raccontati e riferiti alla Corte, lei ne conosce altri che riguardano specificamente l'Ercolano? Lei sa, ad esempio, se Aldo Ercolano si sia reso responsabile di delitti, di omicidi specifici? Non si parlava mai con Aldo Ercolano di queste cose. Specificatamente. E quindi, oltre gli episodi che è già ricordato, non ne conosce altri? Magari, dette così, non mi vengono. Magari parlando, né più o meno, magari può darsi. Era normale che lei, anzi, l'ha riferito in parte ieri, che quando aveva necessità di parlare con qualcuno all'organizzazione del Santa Paola, lei andava a cercare l'Ercolano. Sì. È così. Lei ricorda i luoghi dove andava a trovare l'Ercolano? Mi ha indicato uno, aveva citato il Viale Ionio, ieri una... Sì, lì nel bar. Ha indicato l'hotel Nettuno, se mal non ricordo, in altra occasione. No, ci siamo dati appuntamento per un incontro là, non come punto di riferimento di Aldo Ercolano. Sì, l'appuntamento fu fissato dall'Ercolano, mi sembra di ricordare. Sì, sì. C'è concordato insieme. Lei ricorda altri luoghi dove ha avuto occasione di incontrare Aldo Ercolano? Nel mio negozio, a casa mia, a casa di Claudio Di Mauro, nel bar del Canalicchio, qualche volta insieme... Qual è il bar del Canalicchio? Quello che c'era... C'è... Vi vedo del luogo, se non ricordo male. Qualche volta, quasi sporadicamente. No, non lo so come si chiamano i bar. Può indicare il luogo dove... Cioè, ma in genere, questi sono, diciamo, più che altro incontri fucaci o casuali. E questo bar può indicare esattamente dove si trova qualche altra indicazione sull'ubicazione del bar? La può fornire? Passata... Passata dove c'è la macelleria dei Lautani, quella via Ferrofabiani, sempre sulla via Pietro dell'Ovala, più avanti, un cento metri, sulla destra, c'è un piccolo bar. Ma così qualche volta addirittura nemmeno ricordo di chi si parlava. Niente di particolare. Lei sa se l'Ercolano si occupasse specificamente del settore degli superficienti, oltre a quello che ha riferito ieri? No. Specificatamente no. Lei ha conosciuto Ercolano Giuseppe? Sì. Padre di Ercolano Aldo. L'ha conosciuto personalmente? Sì. Può indicare l'occasione e l'epoca? L'ho conosciuto da tantissimi anni. Lei sa se l'Ercolano Giuseppe fosse inserito in organizzazioni malavitose? Eh, padre di Aldo. Non so specificatamente di chi si occupasse nelle sue attività, diciamo, illecite. Lei? che aveva la zona industriale, aveva un deposito dei camion, addirittura una volta ci sono anche andato a trovarlo. La ragione? Non ricordo di preciso. Ma mi pare che era forse per cercare Aldo, per parlare con Aldo, se non ricordo male. E di cui non c'era nemmeno lui fra l'altro. Lei ricorda di aver trattato affari illeciti con l'Ercolano Giuseppe? No, illeciti no, semplicemente c'è stata una volta una cosa, eh, dei fratelli certi, mi pare che si chiamassero Gennaro, quindi che abitano vicino, diciamo, Masca Lucia, o qualcosa del genere, dovevano dare dei soldi a Giuseppe Sciuto, in quanto gliel'aveva dati Giuseppe Sciuto ad Usura, di riflesso ad un zio cavallaro. Questi erano commercianti, mi pare, di agrumi, o qualcosa del genere. E che dopo tanto tempo non glieli potevano dare, erano entrati in crisi, in quanto lei era, allora, mi si disse, da parte di, in una prima occasione con questi Gennaro, a casa di un zio cavallaro, che avevano fatto un affare di aranci per mandarli in America, li avevano passati attraverso il Canada, solo là per delle leggi sull'alimentazione, eccetera, e questi vagoni di aranci le sono state bloccati, le sono marciti, e quest'affare le è andato male, e che si erano molto indebitati a causa di questo affare, ed erano in trattativa con una finanziaria inglese, in quanto erano persone, diciamo, benestanti, questi qua, erano in trattativa con una finanziaria inglese, e stavano aspettando la risposta di questo grosso finanziamento, questi fratelli, e che non appena avrebbero avuto questo finanziamento si sarebbero, diciamo, tolto questo debito. Passati del tempo e che questi signori, diciamo, ancora non venivano a portare i soldi di Giuseppe Sciuto, Giuseppe Sciuto mi ha detto nuovamente, mi ha fatto sapere di interessarmi un po', se gli faceva questa cortesia, se mi interessava un po', di fargli recuperare questi soldi, e che un giorno si sono presentati questi signori con Giuseppe Eccolano e ci siamo dati appuntamento al bar Kennedy del Corso Sicilia e che Giuseppe Eccolano mi diceva che questi signori stavano aspettando un finanziamento del Banco di Sicilia di Palermo e che non appena ci sarebbe avvenuto ci avrebbero dato i soldi. allora a questo punto io dicevo a lui va bene il colloquio l'ha avuto con Al Barchen di con chi l'ha avuto? Giuseppe Eccolano padre di Aldo praticamente diciamo che si stava interessando lui in quanto sicuramente a quel punto credo che era anche amico di queste persone lo dicevo io a quel punto va bene Zopippo ma ne corrisponde non sia e lui mi dice ma Pippo io come faccio? e no Zopippo siccome questi signori da tanto tempo la portano alle lunghe prima finanziaria inglese prima finanziaria palermetana io non è che ci posso mandare a dire a Pippo asciuto aspettare finanziaria per cui se ne garantisce ossia allora lo scusso potremmo fare se non ne garantisce non è che può venire in ogni modo queste cose vengono la gente si pigliano i soldi e poi quando è in difficoltà un coppio non di mia fa pensare c'è cosa ossia poi vengono non di ossia fa pensare c'è cosa con mia insomma cerchiamo di avere un punto di incontro perché devo dare anch'io delle risposte e lui praticamente non si assume le responsabilità in effetti non appena io ho finito di parlare con lui sono andato a cercare Aldo e io l'ho detto Aldo in effetti Aldo mi dice no no Pippo mio padre non si prende nessuna responsabilità di niente anzi non si deve nemmeno interessare di queste cose cioè questo qui è il discorso più o meno che riguarda Giuseppe Colano Lei ha parlato ieri di Ercolano Sebastiano sì e se non ricordo male ne ha parlato in occasione di una fornitura comunque relativamente al traffico degli stupefacenti ne ha parlato in questo contesto no no è parlato nel senso che aveva un affare con Cimimiana a Milano che mi disse Aldo Ercolano nella circostanza diciamo e l'aveva dedotto lei che si trattava sì l'abbiamo dedotto noi sì è stata una nostra deduzione lei l'ha conosciuto personalmente Ercolano Sebastiano no personalmente no oltre a quello che ha detto ieri su Ercolano Sebastiano sa conosce altri fatti no come diretta persona no come ho sentito dire tanti però ma cosa ha sentito dire e da chi quello che si diceva in Ciro e cioè che cosa che diciamo che era diciamo l'anello di congiunzione su tutti più o meno gli affari più grossi e lecidi della famiglia Santa Paola anello di congiunzione in che senso e con chi come tutti gli affari più importanti di droga queste cose qua quello che si diceva in Ciro era questo ma la fonte di queste notizie lei la può indicare eh Presidente chiedo scusa il test sta deponendo su voci correnti di popolo quindi sulla domanda del pubblico ministero c'è opposizione ma c'è appunto una domanda specifica per si rigetta l'opposizione perché non sembrano voci correnti di popolo a domanda del pubblico ministero il test ha risposto posso riferire cose che ho sentito dire in giro ma non non li conosco per diretta persona si può continuare l'opposizione rigettata allora le chiedevo la fonte delle sue notizie qual era signor Ferone qual era era quella diciamo che si diceva all'interno di noi anche attraverso altre squadre cioè erano ritenute voci in un certo modo autorevole cioè della vostra organizzazione si anche su altre organizzazioni lei ha conosciuto un certo Fazio Vincenzo lei ha conosciuto una persona che è sovrannominata ubaghiolo l'ho conosciuta a carcere qui di Bicocca in che anno lo ricorda? nel 94 95 e sa se questa persona appartenesse o meno ad organizzazioni malavidose? sapevo che era diciamo quella Santa Paola ma passato Santa Paola era là lei da chi l'ha saputo? no si diceva in Ciro anche diciamo si vedeva più o meno che simpatizzava passeggiava parlava in prevalenza con un appartenente all'organizzazione Santa Paola lei ha avuto modo di parlare direttamente con questa persona? credo pochissime volte anche se parlavo parlavamo di cose così lecite di calcio qualcosa del genere niente di compromettente niente di più di calcio niente di compromettente niente di più e senta può fornire una descrizione fisica di questa persona? era magro più o meno sono in metro e settanta capelli? mi pare che l'avesse mossi se non ricordo male con quei Fazio che ha nominato prima perché appunto come detto magari come cognome i nomi non mi dicono niente magari come soprannome perché ora che ricordo si chiamava Fazio ora che ricordo si chiamava Fazio di cognome magari come paghiolo come ha detto in effetti mi è venuto subito in mente come Fazio magari non mi diceva niente lei ha conosciuto un certo Ferrante Filippo? no ha conosciuto un certo Fichera Alfio? sì l'ha conosciuto personalmente? però a carcere di Bicocca prima ne sentivo solo parlare in che periodo ne sentiva parlare e in che periodo poi l'ha conosciuto? l'ho conosciuto in questa mia detenzione del 94 95 di cui qualche volta siamo stati anche tratotti insieme da Bicocca Tribunale di Catania ne ho sentito parlare sin dal 1984 più o meno sa se appartenesse o meno ad organizzazioni malavidose? era uno dei responsabili della zona diciamo della Marina di Catania per conto di Santa Paola lei sa se il Fichera avesse un ruolo particolare in un'organizzazione oltre a quello che ha detto la domanda è suggestiva oltre a quello che ha detto circa la posizione del Fichera il Fichera prevalentemente si interessava sulla della pesca del pesce spada in che senso si interessava? si interessava nel senso che essendo che il pesce spada è suddiviso tra i Puglisi i Cursoti e Santa Paola Antonino Savasta allora tra Puglisi i Cursoti e Santa Paola per quanto riguarda Santa Paola l'interessato è proprio il Fichera lei ha detto è suddiviso se può specificare il senso di questa ripartizione in che cosa consisteva questa ripartizione tra i Puglisi i Cursoti e il Santa Paola consiste nel fatto che il pescato il pesce spada tutto il pesce spada diciamo pescato in prevalenza nella zona del Catanese è assoggettato Presidente mi scusi sono l'Avvocato Cali difensore di Fazio sto vedendo che il Fazio in questo momento manifestamente sta soffrendo la chiedo di intorno stiamo cercando di ottenere la presenza del medico del carcere Presidente chiedo scusa ma non può disporre una traduzione in ospedale o chiamare un'ambulanza ne abbia pazienza io lo posso rimandare immediatamente al carcere anzi considerando che il faccio da manifestazioni di scomporsi nella varella che deve essere il tratto dei carabinieri ne dispongo l'allontanamento e il rientro immediato al carcere richiedendo anche l'intervento di un sanitario per le cure di cui ha bisogno al carcere c'è il sanitario vedrà se avviarlo in ospedale il silenzio il sanitario del carcere oppure no allora allora il medico sta venendo anche il rispettore deve dire a te perché ho disposto che sia riaccompagnato dal carcere perché non può stare per lo sostituire l'istruttore della polizia per i denziari ha detto se ce lo dobbiamo portare ci chiamiamo significa a te di chiamare grazie a tutti Grazie a tutti. La comunicazione è alla cella del signor Fazio, per favore, e sarebbe l'ultima alla mia sinistra. Signor Presidente, buongiorno, sono Pugliese. Chi è? Pugliese Alessandro. Pugliese Alessandro, sì. Gli volevo dire, riguardo le visite mediche, che sono qua una volta alla settimana, ogni mercoledì, che noi siamo a pregresso, dopodiché le visite mediche non ce ne fanno più. Quindi ci dicono di rifiutare il pregresso per fare la visita medica, oppure si deve fare la visita medica? Guardi, non so che dirle. E allora la visita medica non la facciamo mai allora? Non so che dirle. Allora, procediamo. Allora, stavo parlando della suddivisione del perché. Se può continuare, Ferone. Presidente, sono l'Avvocato Calì. Scusi se la interrompo, ma è palese lo stato di sofferenza del fatto. Avvocato, disposto che sia allontanato. Per poterlo allontanare abbiamo bisogno della presenza di un medico e dell'ispettore della polizia penitenziaria. Li stiamo aspettando. Io posso soltanto sospendere l'udienza. L'udienza mi pare che di fatto è sospesa. Ma io ritengo che di fatto... L'udienza non posso seguire, proseguire serenamente, vedendo lo stato di sofferenza di Fazio. Perfetto. Allora, restiamo così come eravamo. Ma ovviamente... Anziché porre la domanda... Io non mi interessa bloccare il lavoro dell'udienza, Presidente, però mi rendo conto, da difensore e da persona che sta vedendo lo stato di sofferenza di Fazio, che certo non è uno spettacolo piacevole per nessuno, io la prego di sollecitare quanto più è possibile l'intervento dei sanitari. Avvocato Calì, l'assicuro che è stato fatto quando è il nostro potere. Per quanto riguarda la nostra umana sensibilità, abbiamo tantissimi motivi di urto e di sollecitazione del nostro sistema nervoso e non soltanto la vicenda di Fazio o questo inconveniente. Per la materia che trattiamo e per i rapporti umani che abbiamo con tutti. Mi creda che, insomma, non è che questo è peggiore. Quindi cerchiamo di fare contemporaneamente quello che possiamo. Prego il Pubblico Ministero di procedere. Io vorrei essere rispettoso nei confronti della Corte e di quello che lei ha detto che è giustissimo, perché in effetti ci sono troppi incroci in questo procedimento. In effetti lei ha ragione, però devo dire con totale onestà e sincerità che vedendo le condizioni di quel signore io vengo in mente in alcune situazioni e sarei contento se la Corte accettasse la proposta dell'Avvocato. Lo so che ha ragione pienamente. Sulla mia sensibilità mi creda, mi ritornano in mente determinate situazioni, ha ragione. Cerchi di estranearsi da questi problemi, di concentrarsi su quanto la riguarda più direttamente. Mi scusi, signor Presidente. Non ci preoccupo, cerchiamo di procedere. Ferone, in condizioni ora di procedere? Signor Pubblico Ministero, proviamo. Presidente, il Pubblico Ministero chiede la sospensione per 5 minuti all'udienza. Va bene, sospendo all'udienza. Possiamo andare da un attimo. Possiamo rientrodurre il signor Terone. Grazie. 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 Allora, intanto diamo atto che l'imputato Faccio Salvatore è stato allontanato dall'Aula perché permanevano le sue condizioni di assopimento. sicché era evidente che la sua presenza in Aula era del tutto inutile. L'imputato è stato accompagnato in barella con l'intervento del dirigente sanitario del carcere. Peraltro, alla stregua della documentazione sanitaria esistente agli atti di stamattina e in attesa di ulteriori accertamenti, la posizione dell'imputato deve essere equiparata a quella del rinunciante. e pertanto non si dispone straccio della sua posizione allo Stato. E si ordina procedersi oltre. Il pubblico ministero può procedere. Ferone, eravamo rimasti al mercato del pesce spada e alla suddivisione e lei stava dando spiegazioni in merito a quella ripartizione del mercato del pesce spada. La suddivisione del mercato del pesce spada consiste nel fatto che le barche che esercitano questa attività del pescato del pesce spada diciamo che hanno una forma di assoggettamento obbligo di portarlo il pescato. A chi lo dovrebbero portare? A Fighiera A Russo Russo chi è? Componente dei Lautani, ad ogni modo E Giuseppe Vasta E chi è Fighiera? E Giuseppe Vasta? Giuseppe Vasta chi è? Detto A Rappato Un parente in fuori di Pugli Antonino, ad ogni modo di portare il pescato che arriva a Fighiera è suddiviso metà da Giuseppe Vasta e metà da Fighiera Il Fighiera pensa per quanto riguarda il gruppo Santa Paola E il Vasta pensa per quanto riguarda il gruppo Puglisi A Stavasto Lei ricorda da quando c'è questa ripartizione e questo controllo del mercato del pesce spada? L'origine è circa nel 1976, più o meno 77, 5 Allora vi era la stessa ripartizione che lei ha fatto poc'anzi? Non ho capito, mi scusi, ripeto Dicevo, allora vi era lo stesso controllo da parte delle stesse persone che lei ha indicato poc'anzi? No, all'origine no C'era solo zio di Affio Fighiera Con Giuseppe Vasta E lo zio di Paolo Fighiera E il Paolo Fighiera apparteneva a qualche organizzazione? All'origine Cursoti E pertanto Il Fighiera Sembra un'anomalia, però è così Il Fighiera Ancora oggi ha l'obbligo Appunto Da quest'origine Di dare anche una quota ai Cursoti Di questo pescato Pur essendo lui uno dei responsabili del gruppo di Santa Paola oggi Ma il Paolo Fighiera esercitava quell'attività come un'attività diciamo lecita e improprio Oppure l'esercitava per conto di organizzazioni malavitose? Diciamo che è improprio Però appunto come ho detto l'assoggettamento E la pressione da parte di questi gruppi malavitosi all'origine Puglisi Cursoti Doveva dare una quota A questi diciamo clan Lei ha parlato di questo assoggettamento per la pesca Quindi assoggettamento di colori quali? Ai marinai Ai pescatori Cioè se andavano diciamo ad esercitare il mestiere del pesce spada Erano obbligati il pescato di portarlo a questi personaggi Lei sa come si concretizzava questa forma di pressione, di condizionamento? Naturalmente le si avvicinavano attraverso inizialmente Paolo Fighiera, Giuseppe Vasta Con un, diciamo, in gergo si chiamano i rietteri Cioè? Cioè Alle barche che dovevano rifornirsi per andare a pescare pesce spada Di cui avevano bisogno di soldi per la naffita, per la esca, per il rimanciare stesso Di cui tante volte i pescatori mancavano anche un mese da casa Stavano al mare Pensavano loro a dargli questi soldi E loro a sua volta erano obbligati a portare il pesce a queste persone E che nella marina di Catania vengono chiamati i rietteri Questo in origine? Sì, in origine Poi magari, essendo che è un mercato abbastanza florido Hanno deciso di unificare tutto il pescato E coloro che non lo portava, diciamo, a queste personaggi che ho menzionato In un certo modo veniva Era oggetto di attentati La bacca le si mandava a fondo E in qualche caso magari qualche cosa ancora di più Lei ricorda anche fatti specifici Possine essere in danno, cioè come minaccio, forme di violenza nei confronti di pescatori Si sono verificati in quegli anni tanti di questi fatti Magari qualche, diciamo, cosiddetto concorrente E il concorrente è stato anche ucciso, mi pare, se non ricordo male, il Salvatore Napoli Se non ricordo male comunque E questo Salvatore, in che anno sarebbe stato ucciso il Napoli? Che lei ricordi? Attorno 75, 77, 8 qua, in quei periodi là più o meno Lei sa come ebbe ad inserirsi l'organizzazione del Santa Paola attraverso il Fichera Nel controllo o comunque nella ripartizione degli utili Come provento di questo mercato? Diciamo che all'origine c'era un box Ed era, ora non mi sto ricordando il soprannome come le dicevano Era vicino ai Cavaggiuzzo Di cui in questo box faceva parte Franco Lombardo Sento che erano, diciamo, interessate a pesce e spada In Santa Paola si sono interessate a torno In che anno siamo? Circa l'anno 81, 82, 83, qualcosa del genere più o meno Più o meno ricordo così sommariamente Mi pare che si chiamasse uno dei, diciamo, dei soci di questo Franco Lombardo Come soprannomo più o meno Jack Caccia, se non ricordo male comunque Jack Caccia? Jack Caccia Non lo do per buono perché non lo ricordo bene Diciamo di riflesso a questa Forma di società tra Jack Caccia e Franco Lombardo Si sono interessate a torno In più C'era Arazzitto, Dia Cereale Conosce il nome di Arazzitto? Ferlito Oggi è morto lui Tutto il tempo fa è morto C'è il figlio Gaetano Ferlito Dia Cereale Essendo che Nel mondo ittico A livello internazionale È un nome di prestigio Quale? Nel mondo lavorativo No, chiedevo quale nome? Ferlito Ferlito Orazio Orazio il padre All'origine Oggi c'è il figlio Ferlito Gaetano So che era molto vicino A Santa Paola Nell'assieme era Anche molto amico E padre Arazzitto Con Pippo Asta Pippa Rappato Erano molto amici Allora le hanno lasciato A lui Alcune barche Liberi Che pescassero Pesce spada E lo trattava Direttamente lui Ma non per la vendita su Lo sono Ferlito sempre Ma non Si trattava per conto Del Santa Paola No, no Era vicino Era amico Per conto proprio Per conto proprio Si Non so l'intimità Dei rapporti Tra il Ferlito E Santa Paola Lo trattava Diciamo per conto proprio Diciamo che le hanno lasciato Questa Forma di rispettiva E anche perché Il padre Era razzitto Come credo oggi Il figlio Qualora avevano di bisogno Sia Rappato Puglisi Non so Santa Paola Non lo so Era a disposizione Loro E questa forma Diciamo Di Autonomia Gliel'hanno lasciata Come del resto Anche A Scirocco In quanto All'origine C'era Scirocco Può ribadire il nome Prividera Sì All'origine C'era Prividera Oggi mi pare Che sia paralitico Da un bel po' di anni Anche lui Diciamo In questo Contesto Allora Per rispettiva Le hanno lasciato Una barca Anche a loro A Scirocco E che però Lo doveva vendere Solo nel suo posteggio Nel suo box Dove? Alla Marina E di cui Andando avanti Nel tempo Quando si è Defilato Paolo Fighiera Ed è subentrato Affio Fighiera A causa Appunto Di questi Trapporti Di lavoro Essendo magari Molto amico Aderente A Clane Santa Paola Diciamo Che Di riflesso A lui È entrato Anche Santa Paola Nel pesce spada Non so In che misura Non so In che Spartenze Ma Queste sue Conoscenze Da Cosa Le derivano? Queste sono Conoscenze Di cui Io li ho Trattati Qualche anno fa Direttamente Personalmente In quanto Come ha detto Prima Un peggiorno Russo Di cui è in società Cono Valastro Ad Acitrezza Hanno chiesto Tanto a Fighiera Che tanto A Giuseppe Rappato Pippo Pippo Vasta Se Di alcune Barche Che esercitavano La pesca Del pesce spada Nella zona Della Sardegna Se si occupassero Loro Personalmente Invece di farli Venire qui a Catania Ci avrebbero pensato Loro Trattasi Di alcune Barche Tanto Nella zona Nella zona Della Sardegna Nei mari Della Sardegna Allora Per comodità Le veniva più comodo Il pescato Appoggiarlo In Sardegna A questo punto Il russo Alza l'incegno Parla con loro Loro si fanno i conti E ci va bene E ci conviene Erano poche le barche Tre o quattro Questo discorso Risale a molti anni fa Qualche anno fa Siamo circa Nel 90 Qualcosa del genere Nel 91 Praticamente Loro pagavano All'origine 20 milioni Di cui andavano 10 milioni E il loro chi? Il loro Russo Pagavano 10 milioni Di questa concessione Che hanno avuto Da parte sia del Fighiera Che sia del Vasta Russo Buon palastro Di questa concessione Sono messi d'accordo Che le facevano Una cosiddetta Regalia Annua Nella misura Di 20 milioni Questa è l'origine Su finire Degli anni 90 Inizi anni 91 Ma 90 comunque Vengo indeperlato Dai corsoti Da chi esattamente? Angelo Barbera Non ricordo male C'era Mussidro C'è Mussidro? Salvatore Non mi sto ricordando In questo momento Un uomo di Mussidro Un uomo a ruoto E di cui Mi si diceva Che oggi Le barche Che vanno a pescare In quella zona là Non sono più poche Ma bensì Sono diventate Una flotta Nella zona Della Sardegna Il che Se il russo Ci avrebbe In un certo Qual modo Aumentato Questo Regalia Da 20 A più un milione A loro Diciamo E al Puglisi In quell'epoca Puglisi Si trova In Calera Allora ho detto Vabbè ora Lo faccio sapere A Puglisi E vi darò la risposta Parlando con i Puglisi Con Anche Giuseppe Vasta In quanto zio Del Puglisi Mi diceva bene Essendo che Il russo Era persona Dei laudani Allora ho parlato Anche con i laudani Ho detto Senti guarda Stanno venendo qua I crussoti Vorrebbero aumentata Questa regalia Che fanno Ogni anno Perché si rivolsero A lei? Perché si rivolsero? A lei Perché avevamo Ottimi rapporti Perché potevano Venire benissimo Perché tutto ciò Che c'era Diciamo Concernente Quindi lei doveva Mediare questa situazione? Sì In pratica La fin fine Ho mediato Questa situazione Sono dichiarazioni Peraltro che il test Ha reso Un altro processo Riguardano soggetti Processuali Anzi Riguardano soggetti Non processuali In questa sede Vogliamo continuare Continuiamo Dipende a dire Nel russo Non è imputato Gli altri Non sono nemmeno imputati E una parte Peraltro Che poco a che vedere Con questo processo Però per carità Io lo segnalo È stato sentito Su queste circostanze Su un processo Che è in corso Peraltro ha detto Le stesse dicenze Ripetendo le stesse cose Si ritiene pertinente L'argomento Alla prova Dei fatti Che interessano Questo proprio Sono oggetto Di questo processo Quindi Continuiamo Allora A questo punto Dopo aver Diciamo Parlato con Michele Di Mauro Cognato di Giuseppe Lautani Le faccio presente La pressione Dei Cursoti In questa circostanza Allora Ho stabilito Insieme a Michele Di Mauro Il prezzo Da chiedere È che I Cursoti La facevano Una richiesta Più esosa Allora Dice Ci siamo messi D'accordo Allora Ho detto Vabbè Ci penso Io per i Cursoti Convingo A farle arrivare A che si cifra Abbiamo fatto Questo incontro Abbiamo partito Una cifra Di 100 milioni Annui E che Praticamente Andavano 50 I Cursoti 50 A Pugli Santonino Stavasta Di questo pescato Che c'era In Sardegna Prego Ha finito Con questo episodio Sì Un episodio Diciamo Può ricordare Chi era Michele Di Mauro Michele Di Mauro Cognato di Giuseppe Lautani Mi pare Intesso anche Fiaschetta Qualcosa del genere Qualcosa che ha Becchia a fare Con Mi pare Un soprannome Qualcosa Becchia a fare Con Formaggi Comunque Un derivato Di animale Comunque Lei ha avuto modo Di incontrare Il Fichera Alfio Per Altri fatti Particolari No, no Non ho mai incontrato Fichera Alfio In nessuna circostanza Fuori Qualche volta Qui a carcere Di Bicocca In un particolar modo Una volta Che si è Andati insieme Al Tribunale Di Catania E che si commentava Semplicemente Le misure Di difesa Da adottare Nei processi In cui eravamo Imputati Cioè in che senso Ci si lamentava Ci si lamentava Un po' tutti Della classe Forense Lei Perlito Salvatore Perlito Salvatore Fiorito 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 Un certo Nino Tomba No Un certo Florio Antonino Lo conosce Non mi è nuovo In che senso Non è nuovo Florio Antonino Come cognome Oppure sa qualcosa No no Come cognome Non mi è nuovo Senta Lei conosce Un certo formaggino Di nome Di nome in che senso In che senso Ne ha sentito Cioè di nome Non lo conosco Solo di nome Non ho mai Diciamo avuto Rapporti Di vista Praticamente E cosa Sa del Formaggino Solo il nome Sì solo il nome Che era un Componente di Santa Paola E può dire Da chi l'ha saputo Come l'ha saputo Si sapeva in giro Lei ha saputo mai Il nome Cognome Della persona Chiamata formaggino No so che c'è un fratello Quello che dico Che si chiamava Prunello E poi che era Solito Frequentare Melo Pericone Questo formaggino Nella zona di San Perillo Nuovo Credo che fosse Abitante nella zona Di San Perillo Nuovo Ma di più Non so essere Specifico Senta Lei Conosce O ha conosciuto Un certo Galea Eugenio No Però ho sentito Tanto parlare In che senso Ne ha sentito parlare Che era Uno Importantissimo All'interno Del clan Di Santa Paola Era Importantissimo All'interno Del clan Di Santa Paola Di cui Nel 91 Essendo che Si sapeva Nell'area Che ci dovevano Arrivare a noi Gruppo Asciuto Dei provvedimenti Restrittivi Io la sera Per un periodo Di tempo Prima di arrivare Questi Diciamo Ordini Di cattura Andavo a dormire In un mini appartamento Nella collinetta Di Acicastello Nella zona Di Vampolieri Casa Datami In prestito Da Gaetano Lomiglio Ucciso Qualche giorno Fa E che Nella Stessa Via Nello Stesso Complesso Il Galea Aveva possibilità Di un appartamento E che Gaetano Lomiglio Incontrò Benedetto Santa Paola Precedentemente In questo appartamento Messo Da Galea In questo appartamento Sempre sulla zona Della collinetta In questo stesso Complesso Per cui Conoscevo Questo genio Galea Di nome Che era uno Molto importante Anche a livello Di cosa nostra Cioè Questo lo sapevo Ma non Diciamo Come Diretta persona Perché Conoscevo Il Galea E chi gliel'ha detto Esattamente Allora Di questa Posizione Della Galea Già si sapeva In Ciro Sì A parte questo Lei sa Qualche Più che altro Quando c'è stata Proprio Questa occasione Di questi Diciamo Non so Non ricordo Se erano 10 15 giorni Che ho soffrito Di questo appartamento E di questo episodio Ne parlai con Gaetano Lomiglio Me lo disse Gaetano Lomiglio Lei conosce Le ragioni Dell'incontro E mi disse Che Benedetto Santa Paola Le ha proposto Di attivare Una cooperativa Che era in possesso De Gaetano Lomiglio Ma è che Gaetano Lomiglio A causa Di Diciamo Come dire Impegni Di lavoro Che aveva Non poteva Attivarla Aveva costituito Una società Una cooperativa Con l'esattezza Ma che però Era da qualche anno Ferma Inattiva E che Santa Paola Le ha detto Se L'attivava E che lui Si rifiutò Non tanto Per Ma perché Non aveva tempo Era impegnato Nel suo lavoro Lei Sa Che tipo Di cooperativa Fosse Di che cosa Trattasse E dove aveva sede No 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 Nemmeno Ne ho parlato Lui si parlava Semplicemente Che lui Era Orientato Di questa cooperativa Di avviarla Nell'ecologia Operatore ecologico Operatore ecologico Si Lei Ha mai conosciuto Un certo Giamuso Francesco Siamo nati Si può dire Insieme Nello stesso quartiere Il quartiere qual è Piazza Bovio Sa se il Giamuso Fosse o meno Inserito In organizzazioni Malavitose Nonostante ciò Che siamo Nati insieme Abbiamo Abbiamo Un ottimo Rapporto Con Giamuso Non abbiamo mai Parlato Di cose Di malavita Anche perché Noi Tutti questi Diciamo Loro giovani Che siamo Cresciuti Nati in quella zona Difficilmente Si parlava Anche tra di noi Di fatti Criminali O fatti Da fare O da fare Atte criminali O di altri Fatti criminali Se non Eravamo Eravamo Semplici Esclusivamente Interessati Io non chiedevo A lui Di nulla Lui non chiedeva A me Di nulla Per cui Ogni volta Ci incontravamo C'era Un simpatico Scampio Di saluti Addirittura Io lo chiamavo Il colletto Bianco Ma niente di più Perché lo chiamavo Il colletto Bianco? Perché era elegante Per la sua eleganza Niente di più Ma Sa se fosse o meno Inserito In organizzazioni Malavitose? Lo sentivo dire Però io non ho mai chiesto A lui Anche perché Era uno molto riservato E Cosa sentiva dire? E da chi? Dalla voce del popolo Ma niente di particolare A volte magari io Per smetizzare Queste cose Dicevo Ma No perché è amico Di quello Di quell'altro Che senso ha E che importanza Non parliamo di queste cose Non mi approfondivo E di chi era amico? Ciamuso? Sì Anche mio No Siccome le diceva Non perché è amico Di quello Di quello Ah Diciamo un po' In genere Non so Magari Di Carletto Amico di Aldo Amico di Aldo chi? Eccolano Amico di Marcello Dagata Lei ha avuto modo Di vederli assieme Ho avuto modo di Vederli assieme Con le persone che ha indicato Cioè di vedere il Giamuso assieme All'Ercolano Aldagata No No Nelle circostanze in cui Sono stato io Insieme a queste persone Non c'è mai stato Il Giamuso E allora Come sa Che il Giamuso Era amico D'Agata D'Ercolano O del Campanella Le si diceva In Ciro Cioè io non l'ho mai visto Sinceramente Sì Lei ha mai conosciuto Un certo Grillo Antonino? Grillo non mi è nuovo E' un momento Si deve interrompere Sì L'era stato chiesto Di Grillo Antonino E' detto come nome Non mi è nuovo Ma come nome così Oppure come nome di persona Che appartenesse o meno Ad ambienti malavitosi Dottore Stiamo trattando A gente malavitosi Per cui è normale Che si parla di gente malavitosa Ma io glielo devo chiedere Sì è giusto E quando io lo capisco Perfettamente Che si parla di gente malavitosa Per cui Quando io Faccio Riflessione di mente Appunto Cerco di focalizzare Tutte le persone di malavite Che si potessero chiamare Con questo nome Non mi è nuovo Nel contesto malavitoso Sa dire in quale contesto malavitoso Oppure No Generalizzando Lei ha mai conosciuto Un certo guardo Francesco No Ha mai conosciuto Un certo Guttà Bruno Di nome Cosa sapeva Del Guttà Era il figlio Del Guttà Che gestiva Le bische Le cupole Di Benedetto Santa Paola Sa se il Guttà Fosse o meno inserito In qualche organizzazione Malavitosa Santa Paola Gestiva le bische Di Santa Paola Le cupole Sancevano Nella punta Prima è padre Della morte del padre E figlio Lei ha avuto modo di Anzi forse ha già risposto L'ha incontrato mai Il Guttà Bruno No Si è mai recato In qualcuna Delle bische Gestite Dalla Guttà Bruno No Senta Lei ha mai conosciuto Una persona Detta Chiamata Robertino Le dispiace Ripetere Robertino Illuminato Mi scusi se la faccio io Questa domanda Illuminato Robertino Mi parli Mi parli Dell'Illuminato Robertino Si Ha conosciuto Robertino Illuminato In che epoca L'ha conosciuto? L'epoca 78 79 Più o meno In quell'epoca là In che occasione L'ha conosciuto Può ricordarlo? Nell'epoca In cui Lui era Solito Frequentare Mario Bocco Cioè Mario? Mario Bocco Non ricordo il cognome Ora E che frequentava Via la Libertà In quell'epoca Ho conosciuto Robertino E il Robertino Era inserito In organizzazioni Malavitose? Si In quale? Santa Paola Come denominazione Lei ha avuto modo Di incontrare Robertino Per In occasione In cui bisognava Discutere O trattare Affari illeciti? No Opposizione La domanda La domanda è Presimente Suggestiva Così come è stata Formulata Presidente Ha risposto Già Io ho formulato L'opposizione Nel momento in cui Il pubblico ministero Stava rivolgendo La domanda Lei Ha saputo mai Di fatti Specifici Relativi Al Robertino No Di fatti Specifici No Quando è stata L'ultima volta Che hai incontrato Il Robertino Libertà Si Si Libertà Diciamo Forse Se non ricordo Mal Di sfuggita Più che altro Nel 92 Se non ricordo Mal Ad ogni modo Perché Lui era Solito a frequentare Picanello Io non ero Solito a frequentare Picanello Per cui Se qualche volta Lui Si trovava a passare Di piazza Bovio Mi vedeva a me O io passavo Di Picanello Vedeva a lui C'era solo Un interscambio Di saluti Niente di più Poi l'ho rivisto Qua L'anno scorso Nel 94 95 Che eravamo Nella stessa sezione Ma lei Quando si recava A Picanello Si recava Così casualmente A Picanello Oppure si recava Per qualche ragione Particolare No no Parlo anche Di passaggio Magari mi trovo A passare Di quella strada Lo vedevo Lo salutavo Niente di più Anche perché Non avevo niente Da parlare Con lui Con chi parlava Solitamente Se c'era da parlare Avrei parlato Naturalmente Con i suoi responsabili Cioè Ardo Eccolano Carletto Marcello Dagata Senta lei Ha mai conosciuto Un certo Indelicato fortunato Indelicato fortunato Fortunato Forse magari Ma non ricordo Indelicato Un certo Leanza Michelangelo No No non ricordo Un certo Giuseppe Leonardi Non ricordo Una persona Chiamata Pippo Curto No non ricordo Non ricordo nemmeno Sto Pippo Curto Un certo Alfio Giamma L'ha mai Conosciuto Alfio Giamma No non ricordo Un certo Longo Alfio No non ricordo Nemmeno Un certo Santo Longo No non ricordo Nemmeno Senta lei Ha conosciuto Lo re Filippo Lo re Filippo Mi pare di Conoscere Questo nome E chi sarebbe Questo Lo re Che conosce No no Non mi è nuovo Mi pare di Conoscere Mi pare di Averlo sentito Durante la mia Detenzione Caccere di Bicocca E cosa Avrebbe sentito Qualcosa No no Il nome Come nome Ah sono il nome Non ricordo male Sì Lo re Salvatore Sono nomi Che ho sentito Madonia Giuseppe Sì L'ha conosciuto Personalmente Il Madonia Sì Può dire In che epoca In che occasione Dalle 75 74 Sì 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 Sa se il Madonia Giuseppe Fosse inserito In organizzazioni Meravitose Sì In quale Cossa nostra E non sta parlando Signor Ferone Lei ha mai saputo Di fatti illeciti Se ne ha mai trattati Trattati dal Madonia Fatti illeciti Sì Trattati dal Madonia Se ne ha mai trattati Se ne ha mai saputi No Direttamente No Quando è stata L'ultima volta Che Ha visto il Madonia In Stato di Libertà Come le ho detto prima Sino qualche giorno prima La morte del padre Del Madonia E quindi successivamente Non l'ha più incontrato No Lei ha parlato Ieri Anche di Mangion Francesco Sì Qual era il ruolo Se l'ha mai saputo Ricoperto dal Mangion All'interno Dell'organizzazione Del Santa Paola Dunque Il Mangion Il signor Mangion All'inizio Era Un contrabandiere Poi quando Diciamo C'è stata Questa scissione Tra il ferlito Santa Paola In Mangion Francesco È stato Attivamente Vicino A Santa Paola E che fosse Un grosso Contrabandiere Questo lo sapevo Benissimo Che poi Si sia Dedicato ad altre Attività Su questo Non posso essere Specifico In quanto Come ha detto Dall'80 in poi 81 più o meno 80 in poi Fini 80 Ci siamo anche Persi di vista Fra l'altro Quindi non vi siete Più incontrati No, no Scusa Alla fine Dall'80 Del 1980 1980 Il fine Gli ultimi mesi In pratica Cioè da quando Vi fu la spaccatura Lei non ha avuto Modo poi Di incontrare No Ha avuto notizie Da parte Di qualcuno O della sua Organizzazione O di altre Organizzazioni In merito Al Mangion Francesco Negli anni Successivi Poi Poi che erai Diventato Diciamo Il suocero Di Aldo Eccolano Di dominio Pubblico Che era Parte attiva All'interno Della famiglia Di Santa Paola Era di dominio Pubblico Ma Diciamo Non conosce Altro Altro Come persona Diretta No C'è stato Solo Un Ho saputo Fra l'altro Non c'era Nemmeno io Presente Che Nel 1988 Fino 87 88 In quell'epoca Là A causa Di Un inizio Di Faeta Tra Il clan Cappello E i Custodi All'epoca Capeggiata Da Angelo Barbera Sono intervenuti Proprio Santa Paola Nella persona Di Mangion Francesco Aldo Eccolano Giuseppe Polvirendi E Diciamo Che C'è stato Questo incontro Per Rappacificare Questa Diciamo Forma Di Faeta Che stava Per scoppiare Diciamo Era scoppiata Comunque Era all'inizio E si è bloccata Sul nascere E chi c'era Presente In quella Circostanza Anche Santo Castorina E lei Come l'ha saputo Della Presenza In quanto È stato Oggetto Di critica Salvatore Cappello Da parte Nostra All'interno In quanto Aveva chiesto Durante Questa Diciamo Pacificazione Proprio A Manchon Che Il cugino Di Manchon Le Ciardello Aveva Importunato Aveva qualche Relazione Qualcosa Del genere Con La Cugina Del Cappello E che Manchon Le ha risposto Che Noi Nella nostra Famiglia Di queste Cose Non ce Ne Abbiamo Allora Il santo Castorina A questo punto Appunto Noi Criticavamo Il fatto Che il Cappello Avesse Diciamo In quella Circostanza In quell'occasione Parlato Di fatti Come dire Tra virgolette Di corna In quella Circostanza E fra l'altro Che a sua volta Era una sua Parente Laddove Avvenne Diciamo L'incontro Non lo so Posso Semplicemente Dire Che Successivamente Poi Io ebbe In modo Di parlare Di questo Fatto Con Aldo E Colano E che Appunto Come ho detto Ieri In altra circostanza Quando si parlava Mi diceva Che Da dieci anni Erano loro Che andavano Dove Dicevano Gli altri Anche in quella Circostanza Lui si è dovuto In un certo modo Salire a bordo Della macchina Diciamo Di cappello Gente che erano Di cappello Perché Per fargli capire Che non c'era nessuna Guata e niente Il che avevano Avuto tanta paura Senta Lei Ha conosciuto Altri parenti Del Mangion O sa Se altri parenti Del Mangion Francesco Fossero inseriti In qualche Organizzazione Malavitosa Lo escludo Io conosco Tutta la famiglia Di Mangion Li escludo Comprese Il figlio Il figlio Per lo meno A mia conoscenza Ma siamo del quartiere Si sarebbe subito Saputo Senta Lei ha mai conosciuto Un certo Marchese Lorenzo Di Marchese Di Marchese Io ho conosciuto uno Che è stato arrestato Durante che io ero qua E questa persona Di nome come fa Marchese Non ricordo Di Marchese Che le ha conosciuto Marchese Ma non ricordo Il nome E l'ha solo conosciuto In carcere Sì E non sa null'altro Di questa persona Di cognome Marchese Che ha conosciuto No Sapevo che era una persona Che Forse Insieme ad altri fratelli Di preciso Non so essere Nel merito Ad altri fratelli Si interessavano Nella zona di Nella zona industriale Su attività Dei guardiani Sui capannoni Queste cose qua Questo come l'ha saputo? L'ho saputo In quanto In circa nel 93 Viene a lamentarsi Da me Un certo Franco Castorino Un mio amico E che Mi ha detto Che Il Giuseppe Buda Pippu Buda Pippu Lomo Pippuscemo Come lo chiamavano Non lo so Insomma Così Più o meno Aveva avuto Dei Discorsi Con I macchiesi In quanto C'era un certo Melutuma Viglianese Carmelo Viglianese Che aveva rubato Delle motopale Attrezzi Dei genere E che Ogni qualvolta Le si presentava Un corpo Sto macchiesi E un corpo Sto peppo Buda Macchiesi Con il nome De Santa Paola E lui Gli ritornava Pippu Buda Con il nostro nome E che Noi non sapevamo Mai niente E si facevano Dare delle Ricompense E che Noi non sapevamo Nulla E per cui Diciamo E la conoscenza Di questi Diciamo Movimenti Di queste persone Di ciò Che facevano In quella zona Però Il marchese Ripeto Solo come nome Chiedo Scusa Forse L'ha detto Ma Sa se Il marchese Che conosce Fosse inserito In un'organizzazione Malavitosa Il marchese Che si parlava E quello Che è stato Arrestato Diciamo Durante la mia Detenzione Qua A carcere Di Bicocca Era Nell'organizzazione Santa Paola Aveva Parenti Ha detto Questo marchese Aveva parenti Parenti Dico Inseriti In organizzazioni Malavitose Mi ricordo Che si trattava Di più fratelli Di preciso Non so se sono Due o tre Più fratelli Che erano I marchesi Si parlava I marchesi Si parlava In genere Non lo ricorda Non c'è mai stato Diciamo Un motivo Ben specifico Per potermi ricordare O sapere Se di due fratelli O tre fratelli O quel fratello E diciamo Indicato In questa situazione Non c'è mai stato All'infuori Di questa cosa Che ho narrato Prima Diciamo Era Più che altro Era tutta sommaria Non era Una cosa Tanto Diciamo Lei non ricorda Il nome Del marchese Che ha conosciuto No No Ha conosciuto Un certo Marciante Filippo A caccere Di Begocca Ne aveva sentito Parlare Prima No In che anno L'ha conosciuto Quando venne arrestato Nel 94 95 Sa se il Mercante Fosse inserito In organizzazioni Malavitose E lo vedevo Vicino Al gruppo Di Marcello Dagata Vicino Amici Di Santa Paola In pratica Ma non sa Null'altro No Ha avuto modo Di parlare Direttamente Con il Marciante Lei No Se non Naturalmente I saluti Conosce Marino Agatino No Conosce Marletta Ernesto No Conosce Marsiglione Francesco No Conosce Marzagalli Attilio No Di Mascaliangelo Aveva già parlato Nel corso Dell'udienza Di Ieri Ci sa Dire Quando L'ho conosciuto Io non l'ho conosciuto Non lo ha conosciuto No E allora Le indicazioni Che ha dato A proposito Del Mascali Gli ho dati Relativi Al fatto Che Giovanni Rapisarda Essendo Che eravamo A carcere Di Carino La Insieme Mi ha detto Praticamente Di portare Questa Ambasciata O Mascaliangelo Scusi Via opposizione Su questa circostanza Il dichiarante Circa 20-30 Minuto Addietro Ha riferito Ampiamente Quindi ripetelo Credo che sia superfluo Per tutti La domanda Non era superflua Perché Si cercava Di capire Se Aveva una Conoscenza Diretta Non per fargli Ripetere Ma L'aveva detto Proprio L'aveva detto Quando l'aveva Mi è sfuggito Le circostanze Diciamo che Mi è sfuggito Il fatto Che avesse Un particolare Soprannome Com'è La sua Conoscenza Quella È di dominio Pubblico Angelo Catina Conosce Mascali Sebastiano No Fa sempre Anucatina Sempre Per sentito Dire Di persona No Conosce Maugeri Maglio Maugeri Mario Ammottapotti Soprannominato Quello È un altro No Di Maugeri Nicolò Oltre Le indicazioni Che ha fornito Già Prennominato Quello è un altro No Di Maugeri Nicolò Oltre Le indicazioni Che ha fornito Già No 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 Lo No